Sono Nicola Alaimo, Michele Campanella e Roberta Pedrotti, i tre vincitori dell'edizione 2022 dei Pesero Music Awards. Il premio, assegnato annualmente da Orchestra Sinfonica Rossini, Xanitalia e Comune di Pesero, celebra il contributo d'eccellenza al panorama musicale nell'anno appena trascorso. I nomi dei premiati sono stati annunciati oggi dal Comune di Pesero. Questo premio nasce nel 2019 assieme al Comune di Pesero, assessorato alla bellezza, Daniele Vimini, e all'azienda Xanitalia, nostro main sponsor, e quindi ringrazio il patron Franco Signoretti. Questo premio intende valorizzare le eccellenze della musica, sia quelle mondiali che in qualche modo hanno avuto qualche rapporto con Pesero, sia quelle che partendo da Pesero hanno avuto successo nel circuito internazionale. Nei primi due anni abbiamo, ad esempio nel settore lirico, premiato Daniela Barcellona, il noto mezzo soprano, e Mariella De Via, il noto soprano. Quest'anno invece il premio finirà fra le mani del baritono siciliano pesarese d'adozione Nicola Alaimo, che rappresenta una delle stelle più brillanti della lirica internazionale, e con lui il pianista e direttore d'orchestra Michele Campanella, e, a completare il tris di premiati, la giornalista e scrittrice Roberta Pedrotti, membro dell'Associazione Italiana Critici Musicali e fondatrice della testata L'Ape Musicale. Come consuetudine, tre sono coloro che ricevono il Pesero Music Award, che oltretutto è un prezioso, fatto da degli artigiani fiorentini, che è particolarmente gradito, in quanto è un filo unico d'argento, che ricurvo su se stesso va a formare la chiave di violino. Il galà del Pesero Music Award si terrà domenica 27 marzo alle 18, al Teatro Sperimentale, con un programma musicale, che vedrà salire sul palco Michele Campanella, in veste di pianoforte solista con musiche di Mozart, e Nicola Alaimo, che interpreterà celebri arie rossiniane.